Buonasera a tutti, bentrovati. Come sapete ormai i giornalisti non sono presenti in sala, hanno inviato le domande all'ufficio stampa e due colleghi di Roma Radio e Roma TV ci aiuteranno a porgerle al mister Fonseca. È presente invece in sala l'inviato di Sky, Paolo Assogna, a cui lasciamo la parola per l'inizio della conferenza. Fonseca, ieri abbiamo seguito con attenzione le parole del suo connazionale Tiago Pinto che ci ha un po' illustrato in linee generali i progetti della nuova proprietà dei Fredkin e ha parlato di un progetto che debba avere una sostenibilità economica, che debba rispettare chiaramente i paletti dell'UEFA e che è comunque un progetto a medio-lungo termine. Ha detto giustamente non è che si può fare il calendario delle vittorie, ecco, questo concetto del progetto a medio-lungo termine, io volevo un po' un suo parere. Lei a questo punto della carriera, le sta bene questo tipo di tempistica, questo progetto che potrebbe portare la Roma a vincere qualcosa a medio-lungo termine o ambizioni diverse a un po', come dice, voglia di vincere qualcosa subito, cioè partecipare e provare a vincere qualcosa subito? Sì, ho visto la conferenza stampa di Tiago e ha parlato in questo progetto di medio-lungo termine, ma ha parlato anche dell'ambizione e penso che l'ambizione è importante avere in tutti i momenti, è importante avere nella squadra. Siamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa, una squadra che vuole vincere sempre. E questo per me è quello che è più importante, avere ambizioni anche adesso per vincere tutte le partite. A proposito di partite, domani ne arriva una molto importante, ce n'era stata un'altra altrettanto importante con l'Inter, dove la squadra, a parte i 20 minuti, aveva fatto molto bene. Le chiedo se questo gruppo che ha fatto molto bene per almeno una settantina di minuti merita in blocco la riconferma anche nel derby. Si giocherà domani la stessa squadra. Io ho imparato oltre parole che per non dire sempre vediamo domani. Lo scopriremo domani. Non fa eccezione, no? No, no. La Gazzetta dello Sport le chiede cosa rappresenta per lei il derby e se le pesa non averlo ancora vinto a Roma. Ma non ho perso anche. Tutti noi sappiamo che è un derby, è una partita importante per tutti noi, ma sono solo tre punti che stiamo giocando e che vogliamo vincere per avere questi tre punti. Salve mister, domanda del Corriere della Sera. Dopo la gara con l'Inter ha detto che i blackout della squadra non dipendono da una questione fisica. A che punto è il processo di crescita mentale della squadra e cosa manca per avere continuità per 90 minuti? Sì, è vero, non è un problema fisico, sono molto sicuro di questo. Anche questa ultima partita ha dimostrato che abbiamo finito gli ultimi 30 minuti con grande intensità a giocare sempre vicino all'aria dell'Inter e questo ha dimostrato che non è un problema fisico perché se abbiamo un problema fisico non è possibile avere questa reazione forte. Dopo, è difficile per tutte le squadre, anche la migliore squadra, avere 90 minuti con grande intensità. Ma noi stiamo lavorando per essere più equilibrati durante i 90 minuti. Abbiamo avuto 15 minuti meno buoni, la partita abbiamo analizzato, ho fatto vedere al giocatore quello che dobbiamo fare per avere più equilibrio sempre durante i 90 minuti. Penso che loro hanno capito. Stiamo lavorando per avere questa continuità, questa intensità durante i 90 minuti. Lanza le chiede, ieri Tiago Pinto ha detto che non esiste un calendario per le vittorie alla Roma però quest'anno è in corsa per il campionato, per la Coppa Italia ed è arrivata ai sedicesimi di Europa League. Crede si stia creando un gruppo in grado di vincere un titolo già in questa stagione? Come ho detto, l'ambizione deve stare sempre presente qui e dobbiamo giocare ogni partita con l'ambizione di vincere e questo non può mancare nella squadra. Noi vogliamo vincere sempre, pensando partita a partita, ma vogliamo vincere sempre. Domanda del Romanista. Solo una volta quest'anno ha presentato la stessa formazione due volte di seguito. Potrebbe essere questa un'altra occasione? Inoltre le dicono che vediamo domani non è contemplata come risposta. Io ho già parlato, io ho tre parole, lo scopriremo domani. Domanda del Corriere dello Sport. Nella passata stagione la Roma fece una delle migliori prestazioni meritando di vincere contro la Lazio. Lei riuscì a fermare il gioco degli avversari con Cristante su Milinkovic e Veretù su Luis Alberto. Potrebbe ripetere questa mossa? Questa è una domanda intelligente e tattica per sapere chi giocherà domani. Quello che io posso dire è che queste partite che abbiamo giocato abbiamo giocato in un modulo diverso. Stiamo giocando in 4-2-3-1, adesso stiamo giocando in un altro modulo. Ma sappiamo l'importanza di Luis Alberto e Milinkovic nella partita della Lazio. Sono due giocatori molto forti, ma loro hanno altri giocatori molto forti, principalmente in attacca. Noi abbiamo lavorato pensando in un collettivo forte, ma anche in un'individualità forte che la Lazio ha. Il tempo le chiede se giocare un derby senza pubblico può essere un vantaggio perché toglie pressioni e in generale pensa che la squadra si senta più tranquilla a giocare negli stadi vuoti? Mai è un vantaggio giocare senza pubblico. Io preferisco sempre, e penso che tutti i giocatori preferiscono sempre giocare con pubblico. Giocare senza pubblico è lo peggio che succede in questo momento. Tutti noi siamo con molta voglia di ritornare a avere pubblico negli stadi. La Roma nei primi tempi ha una produzione offensiva straordinaria e sarebbe addirittura in testa alla classifica. Nei secondi invece manifesta spesso dei cali, subisce la maggior parte dei gol e fatica a segnare soprattutto nel primo quarto d'ora. È riuscito a capire perché è un problema tattico o di testa? No. Possiamo vedere partita a partita. Per volte, per volte, in partita sono problemi di dettagli e tattico. In una o in un'altra partita penso che abbiamo avuto un problema di testa, che la squadra non ha reagito bene a momenti di sconforto. Ma, come ho detto, stiamo lavorando per essere sempre più equilibrati in tutti i momenti della partita, in tutti i 90 minuti. Domanda di Teleradio Stereo. Quanti dubbi ha sulla formazione di domani? Senza fare i nomi dei giocatori, quanti ballottaggi ci sono? Nessuno dubbio della formazione di domani. Domanda di Centrosuono Sport. Affrontate una squadra molto forte nel recupero palla e brava a ribaltare l'azione in ogni momento della partita. Le chiedo come si affronta una squadra così? Sta pensando a qualcosa per dare più solidità alla sua uscita palla dal basso? Penso che è una caratteristica del calcio italiano, quasi tutte le squadre, principalmente le squadre più forti, sono molto forti in questo momento. Quando recuperano la palla è uscita veloce per il contrapiede. Perché è una cosa che prepariamo sempre, è una cosa che lavoriamo sempre, perché quasi tutte le squadre sono forti. Però questa settimana non è stata diversa. Sappiamo che Lazio è una squadra molto forte quando recupera la palla e esce forte nel contrapiede. e abbiamo lavorato e preparato come dobbiamo fare sempre, quasi in tutte le partite. Domanda di Roma TV. Le chiedo, mister, come sta Pedro e le sue condizioni anche in vista di domani? Sta bene, sarà convocato. Domanda nostra di Roma Radio. Qual è la caratteristica della nostra squadra che non dovrà mancare domani? Aggressività. È cosa che non può mancare domani. Grazie. Grazie. Arrivederci. 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 Grazie.